I nostri figli spendono ogni giorno una gran quantità di energie. Siamo noi genitori a dovergli insegnare come dosarle nel rispetto degli altri e della natura che li circonda. L'ambiente nel quale viviamo non c'è stato dato in eredità dai nostri padri, ma in prestito dai nostri figli. Risparmio energetico significa anche risparmio economico e tutto questo Encosys lo sa. Ecco perché ha realizzato il SEM, un sistema di accumulo di energia per ascensori. Ho scelto il sistema per ascensori SEM perché sinonimo di efficienza e risparmio economico. Per pensare con serenità al nostro futuro. Encosys. Efficienza, risparmio e sicurezza. Al vostro servizio. SEM SEM ha vinto il premio Green Entrepreneurship Excellence Award, istituito dall'Arti, l'Agenzia regionale pugliese per la tecnologia e l'innovazione, nell'ambito del progetto Green Business Innovation, cofinanziato dall'Unione Europea, all'interno del programma di cooperazione territoriale europea Grecia-Italia 2007-2013. Grazie 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 a tutti.